Signore e signori benvenuti in questo nuovissimo video, oggi Inter Lazio 1-2 di Coppa Italia purtroppo abbiamo finito qui il nostro cammino in questa competizione e come lo scorso video di Inter Bologna non è stato registrato al secondo verde ma al primo rosso ovviamente come sapete costava 10 euro, ne abbiamo approfittato, li abbiamo comprati e abbiamo fatto tantissime foto e tantissimi video siamo riusciti a metterci davanti anche nel riscaldamento quindi adesso godetevi tutto il video mi raccomando e buona visione Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci qua ancora una volta a San Siro, oggi ancora per la Coppa Italia Inter Lazio per la seconda volta a San Siro, quest'anno siamo già andati, 3-0 in campionato è andata bene oggi Coppa Italia, gara secca, si stacca il pass per la semifinale contro la vincente tra Roma e Cesena che giocheranno domani speriamo di continuare la striscia positiva in casa e speriamo ovviamente di vincere i cancelli non sono ancora aperti, oggi siamo qui presto perché saremo al primo rosso e ci vogliamo godere lo spettacolo come l'altra volta ma vedendo il riscaldamento come si deve quindi adesso entreremo, saremo al primo rosso come ho già detto e speriamo di vincere vi raccomando sempre Marseille eccoci qua, stiamo per entrare 19.07, hanno appena aperto i cancelli e saremo da soli infatti così è, siamo assolutamente da soli, guardate siamo in primo c'è nessuno e oggi penso proprio che questo riscaldamento ce lo vedremo veramente ma veramente bene guardate qui dove entrano e direi che questo riscaldamento ce lo vediamo alla grande speriamo, adesso il video del riscaldamento durerà due ore e mezza adesso non lo so e speriamo di vincere chiamate e giro la cellulare tutto insieme per comunicare dove e quando vuoi a partire da 29,90 euro al mese e per un legge di una regalazione ma pieni miei pazienti, quello che ha mai 187 rischi si sia ok, se le squadre sono gemellati tifosi mica grazie 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 Sai che carica che le mette? Dai ragazzi! Dai, dai raga, dai! Sbagli la tua persona Non ti ha ricaduto sul più profitto Vabbè lo salvo lui Sì Sbagli la seconda maglia dell'anno scorso Quella con la fila postaggio La fila Contro la Roma Anche come squadra La Roma è l'unica C'è lui, c'è la raga Sì Ah, però c'è la... La mia città è la mia città La mia città è la mia città La mia città è la mia città Il joue usando il pallone Mentre Non l'hai visto? C'è nei video? Non l'hai visto, non l'hai visto? 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 Non l'hai visto, non l'hai visto, non l'hai visto? Non l'hai visto, non l'hai visto? Non l'hai visto, non l'hai visto? Non l'hai visto, non l'hai visto, non l'hai visto? Non l'hai visto, non l'hai visto, non l'hai visto? Non mi ha fatto da dire, veramente, mi ha fatto un cazzo, mi ha fatto un t, due, tre tiri Tanti errori, sinceramente, noi però dobbiamo vincere, veramente Iniziato al secondo tempo è uscito Banè che è palazzo, è entrato Mauro, Riccardo e Jean Marius Speriamo di ribaltare il risultato dei primi 45 minuti, dai forza Miranda, calcio di ricordo per la Lazio Biglia sul dischetto, eh, contro Andanovic Dai! Parte Biglia Gol Per zero, Lazio, due gol di Biglia sul rigore E adesso la teresima salita perché siamo in giugno 10, quindi 10 contro 10 Pulso Radu Radu e abbiamo un quarto d'ora, due gol Dai! 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 Non è la vaga, 77 Dai zero Prato vinc! Prato vinc! Prato vinc! Prato vinc! Dai! Prato vinc! Dai! Inter! 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 2-1! Dai! Sei venuti in bordello! È finita qua Inter-Lazio, Inter-1, Lazio 2, purtroppo siamo usciti ai quarti di finale, partita rubata più o meno, non vogliamo metterci su queste cose, fa niente e c'è da dire che non meritavamo perché secondo me abbiamo giocato meglio o comunque alla pari della Lazio e finisce qua il nostro cammino Coppa Italia e adesso ovviamente tutti a Torino per sostenere i ragazzi e speriamo di portarci a casa i tre punti in campionato. Adesso è l'unica cosa che ci rimane. Mi raccomando sempre, forza! E? Mianc Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E niente, questo era il nostro video di Interlazio, speriamo che vi sia piaciuto, se è così mettete like, commentate, condividete e passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione. E ovviamente forza Inter.